Ciao a tutti maghi e maghi e benvenuti in questo nuovissimo video, io sono Magic e oggi siamo tornati su Space Martial ragazzi è un po' che non lo portavo in qualche giorno, giusto perché mi ero preso con le live, ho iniziato The Walking Dead e tutto io direi possiamo continuarlo e dovevamo iniziare la terza missione perfetto iniziamo la missione stanno sparando, meglio che me ne vada a quanto pare non siamo gli unici a dare la caccia a Bob quindi devo trovarlo prima degli altri, lo so già aspettate che abbasso un attimo se no è troppo alto perfetto, allora di là stanno sparando questa tuta ci fa camminare lentissimi, non so se vi ricordate ragazzi ok, lì c'è un nemico avevamo la mitra e il fucile, io direi andiamo di fucile così non ci pensiamo più bam, ok mamma mia questo fucile continuerò a dirlo, è fantastico ragazzi ah, quello lì ci fa un male cane lo aspettiamo bam, perfetto e due sono morti queste qua cosa sono? oh, cariche esplosive perfetto, bene bene dobbiamo andare dall'altra parte ragazzi, volevo ringraziarvi ancora perché ci stiamo iscrivendo in tantissimi state diventando davvero tanti l'ingresso è crollato quindi mettiamo una carica esplosiva facciamo così e andiamo allontaniamoci grazie per il supporto tutti i mi piace che mi lasciate aia quello lì ci spara stiamo bassi ok, aspettiamo che spara vai ok, ok e ricarica noi ci avviciniamo e lo uccidiamo perfetto i mi piace sono davvero tanti i commenti altrettanto vi ricordo che ho anche un clan su Clash Royale per chi ci gioca vi invito a entrare andate su uno dei miei video di qualche giorno fa che leggete tranquillamente il nome del clan si chiama Magic YT che sta per YouTube e vi aspetto lì per fare delle partite tutti insieme ragazzi allora vediamo di far piano con questi due sono uno con la faccia dell'altro facciamo così bam uno è morto e facciamo così con l'altro con un bel mitra e via morto anche l'altro mettiamo un'altra carica esplosiva qua allontaniamoci quello là sentirà sicuramente perché non ci credo che non sente oh no oh no scappa scappano ragazzi c'era anche da trovare gli indizi vi ricordate qua ce n'è cinque da trovare e non abbiamo trovato manco uno per adesso vediamo di fare un giretto di qua e infatti vedi abbassiamoci questo ci dà la velocità io direi uccidiamo prima lui che sta dormendo morto uccidiamo quest'altro perfetto sono un po' qui ragazzi vediamo se riusciamo a cavarcela uccidiamo quest'altro perfetto ne manca solo uno anche lui col fucile a pompa ma noi siamo più forti vero ok perfetto siamo molto più forti vediamo se qua da qualche parte c'è un indizio forse qui sotto no cos'è lì sotto c'è qualcosa che brilla ah ok dei diamanti un indizio è qua dietro eccolo qua ragazzi non vedevo ok un indizio su cinque andiamo da questa parte dove avevamo fatto scoppiare il muro ok lui è girato vediamo se riusciamo a ucciderlo bam morto l'altro sarà spaventatissimo non ci ha sentito è morto anche l'altro perfetto ragazzi stiamo andando benissimo cosa volevo dirvi ci saranno molti tagli in questo game perché io ripeto come ho detto nell'episodio scorso è abbastanza lento quindi vi faccio vedere i momenti più importanti più divertenti ecco perché se dovessi farvi vedere che cammino ogni due secondi non ce la caviamo più qua che cazzo sto combinando andiamo a uccideresti qui girati e fai fuori quello fai fuori quell'altro abbassati e ce n'è un altro qua che cavolo stava succedendo stavano uccidendo tra di loro qua ragazzi ah già giusto perché c'è qualcun altro che cerca Bob quindi noi dobbiamo arrivare prima di quelli lì trova Bob dinamite e dagli una lezione ah ok quindi non è un nostro amico è un nemico bene bene di qua c'è un nemico ragazzi attenzione morto no 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 uccidi uccidi ok morto io direi ricordiamoci anche che abbiamo le bombe proviamo a usufruirne facciamo così vediamo se ci va bene lanciamogliela lì allontaniamoci eh no troppo lontano troppo lontano facciamo così boom uccisi bene ragazzi abbiamo trovato l'altra carica esplosiva mettiamola giù e allontaniamoci perfetto salvataggio perlomeno se moriamo ricominciamo da qui ma speriamo di non morire un altro indizio siamo a 2 su 5 oh un'altra carica dobbiamo mettere qua mettiamola ricordo che gli indizi servivano per penso siano delle missioni secondarie appunto per uccidere i ricercati più ora ma dai quante cariche esplosive dobbiamo mettere facciamo oggetto necessario carica esplosiva non ne abbiamo proviamo a lanciargli una bomba magari funziona lo stesso facciamo così e vai vediamo se funziona non lo assicuro no infatti non funziona dobbiamo cercare una carica esplosiva in giro quindi presumo ragazzuoli miei io sto girando come un dannato ma non trovo la carica esplosiva la vedo un nemico magari è da quelle parti lì l'altra carica esplosiva da trovare adesso faccio un salto e vediamo ci siamo eh sono arrivato qua dove ancora non eravamo stati e presumo che sia qua la carica esplosiva mancante anche perché in giro ho girato tutto e non ce n'è però io qua vedo solo un indizio oh mannaggia pensavo di avere in mano la pistola ah ce l'aveva lui la carica esplosiva eccola lì figa che culo ragazzi pensavo di avere in mano la pistola invece vuole bombe perfetto allora andiamo a mettere questa dinamite carica esplosiva come volete chiamarla all'ultimo masso sperando che sia l'ultimo ci siamo ragazzi ci siamo allontaniamoci mamma mia con questa tuta però corre davvero lento ok che mi dà più scudo quindi ho più protezione però corre troppo troppo lento allora stiamo bassi qui uccidiamo lui perfetto e uno è andato ce ne sono ahi ci hanno visto ci hanno visto ok ci siamo salvati spariamo di lì ok così io direi usiamo un po' il mitra e ok perfetto e anche lui è morto prendiamo vedete i loro colpi colpiscono direttamente la salute lo scudo non lo cagano quindi non so quanto possa essere utile questa tuta mi sa che dopo proverò a toglierla vediamo vediamo un attimo come come riusciamo a gestircela la cosa ah non l'avevo neanche visto stavo guardando la velocità che c'è qui perché ci fa comodo uccidiamo pure quest'altro spara 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 ok abbassati spariamo pure a lui ricarica spara 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 ok adesso loro stanno colpendo lo scudo perché sennò quest'ora eravamo già morti ragazzi ricarichiamo un attimo il fucile avviciniamoci di qua uccidi uccidi spara spara stai basso stai basso madonna quanti ragazzi sta ricaricando e spara perfetto ne è morto un altro io direi prendiamo il mitra e spariamo a quell'altro lì morto benissimo ragazzi fighieri era un casino sto giro io direi andiamo un attimino qua a prendere lo scudo perché ci sta finendo ecco non è che ce ne abbia dato tantissimo poteva sprecarsi un pochetto di più quindi direi che è giusto scendere di qua uh frank vai dentro a vedere cosa sta succedendo ma sei fuori ha uno scudo protettivo e un carico di dinamite non ho intenzione di entrare là dentro dobbiamo ucciderle qui ragazzi proviamo con una bomba beh ci ho provato io non ci entro proviamo a vedere se ci arriva una bomba lì lancia attenzione saltano bam tutte e due perfetto ragazzi combo una combo perfetta abbiamo la salute diciamo quasi al massimo oh abbiamo un'ottima polizza dentale e un programma di vaccinazione contro la flora aliena non mi stai ascoltando non perderò altro tempo con te e con quel burattino di blackburn ok abbassiamoci prendi e porta a casa ok lì gli lancia le granate quindi penso che lo uccida lui no dobbiamo uccidere prima loro perfetto e anche quello là perché dobbiamo ucciderli tutti oh quante bombe lancia guardate lì quante bombe mannaggia prendiamoci un po' di ok munizioni via 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 che ci lancia le bombe ok penso che sia da fare così sto livello dobbiamo lanciargli le bombe anche noi buttiamola di lì sperando di esserci arrivati oh oh stiamo attenti mettiamo una carica esplosiva di qua attenzione mamma mia ma che casino è sto livello qua ok abbiamo buttato giù lì buttiamo una bomba a quelli lì perché non ho voglia di combattere dai ok perfetto morti tutte e due qua cosa c'è mimetizzato ok non dovrebbe vederci per un attimo possiamo lanciargli delle bombe là a loro facciamo così e lancia perfetto vediamo un po' se li abbiamo presi presi benissimo mamma mia quanto scudo ha il suo scudo respinge tutti i tuoi attacchi dovrei far saltare in aria ah mi sa oh alzati mi sa che ci sono i barili ragazzi mamma mia che casino dobbiamo far scoprire i generatori per annullargli lo scudo ragazzi uccidiamo quello lì che mi sta dando problemi via la bomba la bomba mamma mia ragazzi quanto danno ci ha fatto stiamo bassi stiamo bassi uccidiamo questi due qua uno e due dai uccidi anche l'altro ok perfetto un altro indizio ragazzi siamo a tre qua prendiamoci la salute ah perfetto ragazzi ci mancava poco e ci uccidevano allora dobbiamo far saltare il generatore oh oh questo qua lancia le bombe uccidiamo questo qua puff qua mettiamo un'altra carica fai così oh via 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 oh prendiamo lo scudo no ce l'abbiamo pieno mamma mamma ragazzi guardate lì no non riusciamo più a uscire adesso da qua come facciamo lui continua a lanciare le bombe ok 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 ce ne siamo liberati andiamo uccidi quello uccidi questo qua ucciso prendiamo le munizioni qua del mitra prese stiamo bassi stiamo anche lontani qua ci colpisce ok prendiamo questo poco di salute che abbiamo qua molto bene mettiamo un'altra scarica di qui allontanati uccidi questo qua perfetto prendi la salute allontanati un'altra volta vai vai dobbiamo far saltare le cariche dobbiamo farle saltare lanciamo una bomba lancia una bomba lì lancia una bomba lì scappa allontanati via dai è scoppiata no non è scoppiata lancia una bomba lì lanciala lanciala via 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 allontanati esploso dai che esplode no esplodiamo noi esplodiamo noi mamma mia ma non posso proprio fargli niente mettiamoci su la carica ok allontanati prendiamo il mitra ok uccidi spara 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 ucciso ragazzi ucciso perfetto molto bene raggiungi il punto di estrazione ottimo ok ce l'abbiamo fatta eccomi qua la vostra estratrice professionista qualcuno deve avere attinto alla scotta di liquore di gavin iii no credo che ci sia iii non si può sentire cazzo sei un cavallo di gas qua dentro qualunque cosa sia allontaniamoci da qui e in fretta va bene cerifo brontolo ok missione compiuta ragazzi vediamo se possiamo scegliere il nostro premio uuu mitico 5 stelle possiamo dire ok scegli il tuo premio abbiamo un lanciagranate un mitra penso la mina e un ascia da lancio io direi prendiamo questo vediamo cos'è fucile d'assalto 30 di danno e 8 di cadenza 8.0 questo fa 99 di danno cadenza non ne ha 30 munizioni fa tanto rumore ok questo tanto meno le mine no dai prendiamoci il lanciagranate vai ragazzi benissimo ragazzi io direi prendiamoci immediatamente il nostro fucile d'assalto dov'è qua chi è che spara cosa è che stanno sparando qua ah è lei che fa le prove perfetto eccolo qua il nostro lanciagranate direi passiamo alla missione successiva no vediamo se possiamo fare qualcosa qui negli indizi longbow creek tocca per iniziare vediamo cos'è ok ragazzi eccoci gli abitanti hanno bisogno del tuo aiuto non perdere tempo perfetto ragazzi dobbiamo aiutare quelle due persone lì non lo faccio mai un momento ha intenzione di calcolare quanto tempo impiego fa parte del protocollo standard ah una missione a tempo queste qua sono le missioni secondarie dai direi che ci si sta possiamo fare una missione normale a puntata più quella secondaria allora questi qua vediamo se con il lanciagranate ah ma no non è un lanciagranate è un fucile eh non so quanto ci possa convenire ragazzi perché due fucili senza un'arma veloce è un po' un casino possiamo solo attaccare ravvicinati facciamo così sparagli sparagli ok quest'altro è morto uccidiamo pure quest'altro eh prendiamo la vita anche i cecchini in questo livello come vedete oh 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 anche quelli che lanciano le granate fighi questa puntata è una puntata di bombe e basta praticamente ok ci serve la tessera qua immagino ok anche per quello qua dobbiamo liberarli la c'è un cecchino come vedete la spia rossa lì avviciniamoci boom perfetto lì c'è un nemico normale ci ha ucciso ci ha ucciso ragazzi ci risiamo stavolta abbiamo tutta la vita uccidiamo questo qui eh vacco ci ha ucciso con un colpo il cecchino dai alzati ucciso perfetto ragazzi dovremmo essere a cavallo scherzavo madonna che casino c'è lì lui si avvicina spariamo da lontano no 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 quello lì fa malissimo ha lo scudo anche lui abbassati nasconditi qua dietro perfetto ragazzi aspettiamo un attimo che ricarichi e avviciniamoci spara 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 quello lì allontanati prendi la vita prendi la vita prendi la vita ok 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 ci siamo non siamo ancora morti ragazzi scappa scappa siamo morti no non siamo ancora morti uccidi quello e siamo morti mannaggia ragazzi difficilissimo sto pezzo sono tornato indietro a prendermi la mitra scusatemi mi ero impappinato perché volevo uccida quello lì siamo tornati indietro a prendere il mitra occhio che c'è il cecchino col mitra dovrebbe andare decisamente meglio dovrebbe andare decisamente meglio perché siamo un po' più veloci nei colpi ecco la vita non ci serve adesso no ricarichiamo tutte e due le armi almeno abbiamo i colpi pieni ok e ricarichiamo anche di qua io direi aspettiamo che si avvicina quello lì gli diamo un colpo di fucile così oppà oppà perfetto quello lì è morto prendiamo le munizioni da qui cecchino sparagli sparagli abbassati ok 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 ragazzi spara questo qua ok stai basso ok dobbiamo trovare uno scudo là c'è un teschio non mi ricordo cosa servono i teschi forse a modalità aggressiva ok ci aumenta la potenza dei nostri colpi quindi uccidi uccidi perfetto ucciso dovrei recuperare questo scudo veloce la vita da qui e recuperiamo anche da qua la vita ragazzi è un casino sta sta missione è difficilissima non abbiamo più colpi per il mitra quindi uccidiamo questo così ci lascia giù la vita ma non le munizioni prendiamo una bomba da qua no lo scudo ce l'abbiamo tempo 1.45 eh sì perché mi sa che non mi ha zerato da prima avviciniamoci veloce veloce spara quelli lì e ok i civili quei due civili li abbiamo aiutati ragazzi ci siamo quasi abbassatevi che c'è il cecchino sfigati fighi se mi fate fallire la missione adesso mi incazzo spara a quel cecchino lì maledetto avvicinati spara perfetto morto spara quest'altro qui morto anche lui stiamo bassi qua ci sono due superstiti non so se devo toccarli no devo solo uccidere tutti i nemici quindi avviciniamoci di qua uccidi questo uccidi 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 allontanati allontanati che c'è la bomba via 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 prendi le munizioni del mitra ricarica il mitra prendi la vita qua dietro prendiamo la vita anche di qui ragazzi madonna è un casino spara così alla ceca vai spara 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 prendi il fucile e spara perfetto ok la vita ce l'abbiamo tutta di là c'è un cecchino avviciniamoci a questo qui e spara ok ragazzi mi sta salendo l'ansia ok mamma mia che culo mi sono abbassato per sbaglio ho anche evitato il colpo di questo qua abbassati e sparali in faccia bastardo via corri corri questo qua lancia le bombe hai rotto i coglioni muori è esploso oh questi qua quando li uccidi ti fanno esplodere se sei in prossimità del corpo uccidi pure quello lì spara 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 perfetto dovrebbero mancarne solo due ragazzi solo due vediamo di farcela no non ne mancano solo due guardate qua quanti ne mancano uccidi il cecchino stai basso ok uccidi questi qua ok ucciso stai basso prendi il mitra e spara 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 fucile uccidi perfetto ragazzi sono tantissimi cioè in quanto tempo dovrei farla io sta missione scusatemi allora andiamo a vedere non dovrebbero mancarne molti comunque avviciniamoci a lui e uccidiamolo perfetto stiamo bassi stiamo bassi no corri corri due ne mancano uno è qua uno è qui eccolo qua vedo vedo la freccia vedo la freccia sulla mappa eccolo uccidi da dietro no uccidilo uccidilo mamma mia se muoio adesso mi incazzo come una bestia però stai basso alzati uccidi prendi il mitra e spara quello là spara ok ucciso ucciso no ne manca ancora uno perfetto prendiamo un altro teschio che ci dà la modalità aggressiva spara uccidilo ucciso ragazzi finita finita la missione con tre stelline perfetto quattro stelline ancora meglio ci darà il premio esatto il cappello no però armatura da sceriffo specializzato salute e scudo il movimento non me lo diminuisce armatura standard di dotazione a tutti gli sceriffi spaziali specializzati ma mi sa che queste qua ce le abbiamo già? non mi ricordo però io prenderei questa decisamente cioè guardate qua danno 44 non saprei ragazzi proviamo a stare sull'armatura proviamo a cambiarla ma si dai stiamo sull'armatura ok e anche questa missione è finita cambiamo l'armatura vediamo un po' se ci muoviamo meglio ah questa qua eccola qua oh vedete che il movimento è già più fluido molto meglio decisamente molto meglio abbiamo meno scudo però è molto meglio perfetto ragazzi io direi questo episodio può finire qua vi ricordo di lasciare un mi piace se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti in descrizione trovate il link alla mia pagina facebook rimanete e iscrivetevi per rimanere aggiornati su varie live sui video che caricherò noi ci vediamo in un prossimo video in una prossima live ciao a tutti maghi e maghe ciao